Primo giorno di preparazione per il ferriolo che si prepara appunto alla prossima stagione di promozione 2024-2025. Un ferriolo che ha fatto un mercato importante, sono arrivati tanti ragazzi, alcuni di esperienza come ad esempio Progni da Lomenia, altri invece molto giovani come ad esempio Balestroni dal Verbania. È soddisfatto della rosa che la società le ha messe a disposizione? Assolutamente sì, quest'anno chiedo che il ferriolo, William, comunque il ferriolo abbia operato benissimo nel rispetto dei nostri budget, credo che di meglio non si potesse fare, quindi siamo tutti soddisfatti, perché attenzione, non è soddisfatto solo l'allenatore, il mister, quando la squadra viene fatta con certi criteri in un certo modo, ma i primi a essere contenti sono i dirigenti che l'hanno allestita e gli stessi giocatori che compongono il gruppo, perché far parte in un gruppo magari con qualche ambizione in più è una cosa importante, è una cosa che fa felici i giocatori, quindi oggi ho visto un gruppo che era contento di riniziare. Quali saranno gli obiettivi di questo ferriolo nella prossima stagione? Allora, adesso questo è il terzo anno oramai in promozione, quindi sicuramente è assestarci in categoria e diventare una squadra che possa dire la sua sempre meglio. Stiamo facendo un percorso di crescita, sono stati due anni che ci hanno permesso di capire quello che possono essere i nostri obiettivi, le nostre possibilità in questa categoria. Se riuscissimo a fare qualcosa di più delle ultime stagioni, quindi una salvezza un po' più tranquilla e magari qualcosina in più vedremo. La squadra è stata allestita per poter sperare di fare qualcosa di meglio, chiaro che poi dipende sempre anche dagli avversari che sicuramente hanno operato bene sul mercato. Quali sono gli obiettivi che ti poni quest'anno personalmente e di squadra? Personalmente spero di fare anche insieme alla squadra un ottimo campionato. Secondo me abbiamo tutte le carte in regola per divertirci. Obiettivi non ce li poniamo, sicuramente salvarci il prima possibile e poi vediamo.